Una targa in segno di riconoscimento per il gesto fatto è stata consegnata stamani dal sindaco di Agrigento Miciche al signor Tonino Pollicino con sovrimpresso la seguente motivazione che con l'usprezzo del pericolo traeva in salvo una donna rimasta intrappolata all'interno di un appartamento dove si era sviluppato un pericoloso incendio. Sentiamo lo stesso Tonino Pollicino e il sindaco. E ci racconta qualcosa giusto per i nostri spettatori, come è andata la situazione? Sì, mi trovavo in via Tante, là dove c'è un negozietto mia sorella, ho visto uscire questo fumo dal balcone per la paura che ci potevano essere bambini o quant'altro. Infatti è stato così, c'era una vecchietta all'interno, sono salito subito quando ancora non c'era nessuno, ho spinto la porta e la signora era nel corridoio già svenuta, l'ho presa in braccio, sono uscito fuori mezzo indossicato. Poi appena sono sceso dalla prima rampa di scala è salito Giuseppe Cucinella, un ragazzo che mi ha aiutato poi perché la signora era abbastanza pesante e l'abbiamo messa in salvo. Poi dopo 20 minuti sono arrivati i poliziotti e sono saliti sopra nell'altro piano. Quindi un gesto importante che siete riusciti a salvare la bella. Spero che tutti farebbero qualcosa del genere. Sì, ma come mai ha pensato di dare questo riconoscimento? Ho pensato perché Tonino ha fatto questo gesto eroico ma l'ha fatto in maniera inconsapevole. Si è fidato dal suo istinto e immediatamente non ha pensato a niente, non ha pensato al pericolo, non ha pensato nemmeno che forse un giorno io gli avrei donato questa parica. Quindi è proprio per ringraziarlo per la sua solidarietà, per lo spresso del pericolo e per aver aiutato veramente un cittadino in pericolo, in pericolo di vita.